Qua te pare? Che ne vedi due Eh... tre e quattro Si vedi Dan Si vedi che non è il più ruota Attenzione! Hai portato il set Ah no Dan butta la turret là Si accampano Sopra Fere Fere non è ancora solito uno Vai 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 La turret dove la metto? Oh turret Bellissimo Oh oh chiudiamoli Chiudiamoli dev'accaccia Ma che chiudiamoli facciamo venire giù Oh la turret dove la metto? Qua Leo Qua No in base Perchè in base? Oh La mette in base o la? Mettila in base Tia Decidetti Se mi incasso So quello che faccio io La metto qui Sì Ma che non si stanno muovendo da lì raga Lasciali là Ma chi è che sta usando il sensor? Ma va Sempre quello Non manca uno eh Ma va Ah no No Ma no Non so se hanno qualche problema di cervello sti tipi anche attualmente vabbè dai non stai fermo ma camp for win questi no anche camp for rose tolac fieri ma non ti assi questi sanno che è morto uno di loro o io lo sicuro che è vero sua madre per cento nx per portata io ti vedo la madre per cento mila nx questi qua per per me tipo vanno nelle mese con le labri poveri il resto di soldi spero non si combattano oltre per per no no per se loro sacrificano mangiare per comprarsi tipo set snake e dicono siii set snake stasera non si mangia ma set snake si ma fidati che è così dun che cazzo fai a sette secondi giuro che ti sparo devo sempre rischiare di morire no secondo me si no è la puttana uno è andato già sopra quello uno no erano sulla sinistra non hai controllato un senso minchia ora si ma l'ho capito si ma pensavo avessi guardato io mi ha tirato un colpo vabbè dai due colpi mi ha tirato non so molto te l'ho qua sotto nemesis anche era sbaglio quello l'ho l'ha stata lechillando questo anche a dan l'ha fatto anche a me prima cosa sta in video ma perchè sparo si ha 3 ping non 4 per per due qui per 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 costituzione per da 40 km eh ma non muoio no bomber assist ma che cazzo è l'ho ma è morto minchia guarda qui sta sto frocio tu le nevi chi è che stava in base lo sapevo che era qua in base lo sapevo che era in base ma dov'è qua no no cacchio è rafka questo va 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 fa culo va è rafka no no non è rafka è rafka questo costo è sempre in base non so che tattica usi tattica degli ebrei era tattica degli ebrei olè che ne vinciamo e noi vinciamo minchia oh contro i gay contro i generali contro ma che cazzo siete forze dell'ordine oh merda leo buttate turret buttate turret sotto casa non mi torno bello fil san torna san torna mica si tacchiappo con la testa di cazzo non vedo nessuno eh te lo vedo si 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 ma è da a ma si ma come fanno a farsi pre fire quello quello ha qualcosa eh il secondo classifico quello è quello nerd di prima classe ma che fuori dire ma per me non usano neanche il sensor questi non ho sound non ho sound non ho sound ma mica hai visto a me due volumi eh ha visto da prima è crepato bellissimo eh sto a telefono sto infitto è tocca le apparizioni mariane bella eh lo so lo so per fortuna che non usano il senso per fortuna che non usano il senso ma anche msn è amico di coso di xenio eh comunque era in clan con lui o dietro dove è sopra eh io sono passato al tank eh eh sono al tank ma un attimo sotto dove ha ha e ne manca uno eh una è qua? ah a tank era ma vabbè è andato di qua 2 per ora un'altra parte ecco asciotta con la sua connessione merda guarda, ogni cv faccio una media di 5, 4, 3 assist così, sennò non c'è gusto c'è mi distruggo io Alex ora non vorrei dire però giù siamo io, Corvo, Divix e Umberto c'è non è che c'è proviamo noi, però io ne faccio una e poi non so adesso, fai logare fausse le bombe non assist ancora ogni cv, un giorno raga porto turrete a e penso di fare una quarantina di assist su una cv faccio 24 assist non è possibile, non posso fare 3-4 assist con ogni cv non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile prima questo qua sa a giocare non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile